Un tempo si presentava così, ma da settimane su via di Periosoli si è apparso un buco. A mancare all'appello una epigrafe è indicante quella via. Esclusa l'ipotesi che si tratti di un'asportazione per un'eventuale ristrutturazione, l'epigrafe sarebbe stata divelta. Se si sia trattato di una bravata o di un furto è ancora da chiarire, ma è molti sanseveresi che si interrogano su cosa se ne potranno mai fare gli autori del gesto con una lastra in pietra indicante una via.